Siglato a Palermo un protocollo di legalità per le zone economiche speciali della Sicilia occidentale. Abbiamo intervistato il prefetto Maria Teresa Cucinotta e il commissario straordinario Carlo Amenta. Una firma importante che vede coinvolte i prefetti della Sicilia occidentale, quindi Palermo, Trapani, Agrigetta e Caltanissetta, unitamente al commissario straordinario del governo per la ZES appunto Sicilia occidentale che vuole potenziare il sistema della prevenzione amministrativa. Aumentiamo il livello della prevenzione e quindi il livello della legalità. Noi ci firmiamo uno strumento che per le ZES diventa uno strumento completo perché ci consente di fare verifiche sia sulla parte relativa agli appalti, PNRR o le altre eventuali opere di infrastrutturazione ma anche di verificare quello che è legato alle autorizzazioni uniche e quindi agli investimenti.